ciao giorgio buonasera benvenuto la sera diciamo è un po che tu hai mandato un bellissimo detto di alfredo oriani un grande della cultura italiana dell'ottocento inizio novecento il quale autore di diversi romanzi e anche storico devo dire e qui mi ha molto colpito questa frase che tu avevi mandato di lui perché questi scrittori italiani che oggi non sono molto noti se tu pensi in italia abbiamo un pseudo intellettuale come saviano e non è nessuno che invece va a vedere un vero intellettuale un grande odio di cultura che era il fedo oriani e potrei continuare mi ha colpito questa questa frase che tu hai mandato che poi dice la viltà deve essere breve perché essa pure un'angosso un'agonia auguriamoci sempre dire presto questi agonizzanti che non furono mai vivi questi ministri che non sanno di avere una patria al di sopra al di sopra e un peso al di sotto di se stessi e non possono essere né padroni né servi che producono le sventure e sono troppo piccoli per per attirare l'odio e basta alfredo oriani ecco di quale appunto è morto a cavalsegno era di faenza nato nel 1822 quindi ha prodotto una serie di libri di di articoli di vario genere veramente impresevoli che meritano oggi giorgio ecco bravo ecco la lotta pulita in italia stupendo una delle opere più importanti della storia d'italia certamente certamente lo credo bene lo credo bene e io appunto a tirare subito una casa ignorata dagli italiani esatto esatto io ti vorrei subito lasciare la parola per ripresentarci questo grande italiano il momento in cui stiamo vivendo credo il peggior periodo della storia di questo paese il peggiore in assoluto diciamo che è la verità non è il peggiore è la verità reale di un paese lasciato a se stesso si si ma il peggiorno è il peggiorno è la disposizione di chi la comanda è decisamente caro giorgio il peggiore che noi mai e poi mai potevamo aspettare il peggiore senza se e senza ma è proprio il peggiore momento che noi stiamo vivendo una cosa infame una classe politica infame lecchini traditori ladri peggiorno ma adesso con con la questione degli spioni che sta uscendo fuori adesso viene veramente in chiaro che questo è un regime che è tutt'altro un regime di di libertà ma un regime di spioni di ricattatori di venduti capito c'è un coinvolgimento della magistratura che non c'è mai stato fino ad oggi esatto noi sappiamo che la magistratura in un modo o nell'altro giostrando molto eh sulla mafia sul vaticano sui rapporti tra la mafia e il vaticano su queste cose si manteneva in qualche modo indipendente adesso con quello che è emerso in questi ultimi giorni dove risulterebbe che ci sono decine di migliaia di personaggi spiati e probabilmente ricattati perché se uno è spiato è ricattato o comunque è ricattabile si capisce perfettamente che questo è il regime della malavita direi di sì direi di sì l'hai detto bene è il regime della malavita proprio così perché credo che hai detto bene che è un regime malvittuoso questo questo non ci piove perché io non ho più dubbi ormai da decenni su questo fatto che in italia vige un regime dei malvittuosi un sistema delinquenziale che tiene scacco il popolo italiano dormiente ormai non so più se chiamarlo popolo che cosa perché siamo arrivati veramente a una situazione di assoluto nichilismo e onestamente io quando emergono queste situazioni stavo guardando adesso un notiziario in televisione quando emergono queste situazioni bisogna avere le idee chiare non è che questo giro di ricattatori di spioni e è stato scoperto alla fine no perché la contromisure che stanno prendendo adesso sono contro misure nell'ambito di una lotta intestina tra ricattatori esatto queste cose bisogna capire perché la politica ecco perché a me interessa di parlare di alfredo oriani perché alfredo oriani ha avuto questa capacità di penetrazione di capire la sostanza della politica italiana tant'è vero che appunto c'è un episodio importantissimo questo è lotta politica in italia alfredo oriani quando fu pubblicato questo importantissimo libro venne a roma dove si è lavorato tra l'altro tra la bravissimo era convinto di vedere questo libro almeno nelle nelle vetrine dei librai era convinto che ci fosse qualcuno che ne potesse sia pure per criticare invece no invece silenzio assoluto come oggi il libro non era nelle vetrine dei librai e nessuno ne parlava immagino ecco questo tanto per dire come la realtà italiana mi fa pensare di tanti silenzio di autori validissimi che non ci sono non si sono mai non sono mai stati discussi e non se ne è mai parlato perché ovviamente non entravano e non entrano nei canoni della discussione politica che sono cazzate le discussioni politiche italiane sono cazzate capito in un troiaio direi di sì ecco in un'esibizione di galline adesso con la scusa del femminismo hanno tirato a fare un fracasso di galline purtroppo che si alternano che si alternano ai capponi è vero è un gioco di galline e capponi direi proprio di sì di galline e capponi anzi anche peggio perché oggi la questo paese sta raggiungendo livelli di di analfabetismo spaventosi e che esprimono una classe politica di capponi di gente che non hanno nessuna idea del paese che governano di l'ignoranza statoferica di una supponenza di una proprio di come dire di una vanagloria assolutamente sì è una supponenza che è legata all'ignoranza sì sì ma proprio una di una di una come dire di un squallore morale che fa paura e qui la gente ancora lo capisce qui adesso sono attaccate le votazioni in sardegna quando qui i quelli che hanno vinto sono quelli che non vanno a votare la questione questa è che purtroppo l'italiano essendo un popolo anichilito ormai doppato nel cervello che quasi cioè la mangiunta del popolo italiano è il privo di qualsiasi ragionamento razionale logico cioè non hanno più idee e quelli che ce l'hanno e quelli che sono capaci sono immarginati sono fuori da ogni contesto di potere sono fuori da ogni diciamo così attività di pubblica utilità perché essendo onesti li tengono fuori perché devono imbrogliare rubare io ti dico che tutt'oggi sono testimone di prezzare di opere pubbliche che veramente sono scandalosi costano più in italia che in svizzera quando la svizzera un'operaria guadagna tre volte minimo sono quattro con l'italiano certo e costa meno allora uno si domanda ma già già questi fatti qua devono far capire a che a che proprio oscenità che siamo arrivati e questi fatti qua non vengono denunciati oggi da sottoscritto ma già da decenni c'è gente che fa notare in questo mondo che succede e tutti fanno silenzio poi se c'è qualcuno che lo dice lo minacciano anche di farlo fuori questa è l'italia purtroppo è così è così concordo perfettamente con te allora ecco io volevo leggere alcune frasi prego fatte dal uno è dal libro lotta politica in metà e l'altro tratto da questa raccolta di articoli pubblicati per i giornali prevalentemente i giornali di bologna ci sono alcune considerazioni ecco io mi limito a leggere delle considerazioni non i fatti in se stessi e men che meno come dire le idee portanti del pensiero di alfredo oriani solo alcune considerazioni una è molto importante ed è questa le guerre contro le quali urlano ora e siamo all'inizio del novecento tutte le giovani voci dei ribelli agli ordini attuali e si addensano tutte le critiche degli scienziati mal cresciuti dal materialismo storico anziché una rovina delle industrie e dei commerci ne sono quasi sempre la prima e maggiore pregiudiziale il grande sviluppo americano cominciò o questo è stato scritto a fine ottocento il grande sviluppo americano cominciò dalla guerra di secessione la sola nella storia degli Stati Uniti che ne reinstaldò la compagine affinandone la tempra dalle guerre e per le guerre dilatanti i confini di l'impero crebbe e soverchiò tutto e tutti il commercio inglese dalla guerra generatrice dell'impero data la potenza e la gloria della ricchezza germanica dalla guerra all'unità il rifiorire dell'Italia nostra dall'incorporabile trionfo dell'ultima guerra il Giappone otterrà nel continente asiatico il primato sulla politica delle nazioni e sui favori dei suoi mercati oggi come ieri domani forse più di oggi la forza segreta ma suprema di un popolo sarà nell'ideale che esso senta e faccia sentire di sé chiaro? certo direi chiarissimo chiarissimo direi e tutto è ugualmente guerra ed arena nella vita ogni virtù è solidale coloro che vincono oggi sul campo di battaglia triunferanno domani esercitando la stossa forza sui mercati fra una fortezza e una fabbrica la differenza è soltanto nell'architettura entrambi si riempiono di armi hanno gli stessi soldati i medesimi generali un'uguale disciplina all'una e all'altra bisogna di vincere per rimanere dritta fiera e feconda questi sono dei concetti eccezionali che spiegano a distanza di un secolo perché gli Stati Uniti sono il paese più guerra fondaio del mondo perché la loro ricchezza si basa esclusivamente sulla guerra e la guerra che essi vogliono oggi coinvolgendovi soprattutto una inerme e servile Europa è appunto una guerra che deve servire per aumentare il potere di certi gruppi di potere che gestiscono gli Stati Uniti lo abbiamo già detto tante volte e continuiamo a dirlo con i documenti che è a nostra disposizione ecco uno ed è questo è questo qui l'ho già fatto vedere altre volte ed è questo certo è l'attacco sconsiderato nei confronti della Russia che serve esclusivamente per inguagliare l'Europa per arricchirsi alle spalle dell'Europa è quello che sta facendo è proprio quello che stanno facendo purtroppo e lo devo dire il problema il problema è che lo sta facendo proprio quello si sta arricchiendo alle spalle dell'Europa e l'Europa non lo capisce no 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 capisce chi la gestisce sono i soliti personaggi che ricevano nottetempo gli ordini da loro signori ci puoi dire esattamente proprio così questo è il punto perché la questione è proprio questo bravo l'hai detto bene l'hai detto bene l'hai detto proprio bene guarda ti giuro l'hai detto bene su questo non c'è problema non c'è proprio nulla da aggiungere prosegue prosegue Oriani ti muore in tutte le guerre ma interrogando bene la vita di un secolo forse si imparerebbe che nelle battaglie dell'industria e del commercio la mortalità è superiore a quella dei campi più cruenti è vero sì sì e non è solo dovuta ai danni di carattere economico ma ai danni fisici che i lavoratori dell'industria subiscono giornalmente fisici tra inquinamento rischi ambientali incidenti mortali e quant'altro all'indomani dell'immensa vittoria sulla Francia Bismarck intento già preparare il trionfo dell'industria e del commercio germanico diceva al consigliere Wagner io non sono mai stato e non sarò mai che un uomo d'affari Bismarck però ma bisogna saper morire per farli buoni e adesso la Germania prima di tutto soprattutto contro tutti Bismarck Anatole France non concludeva l'altro giorno diversamente augurando alla Francia di non essere mai superata Anatole France chi conosce la letteratura francese sa che è stato Anatole France ma meno sincero di Bismarck non osava dire che anche gli affari sono una guerra e che nel fondo di tutti i coraggi vi è lo stesso disprezzo della morte chiaro? e noi sappiamo che le grandi guerre che sono state condotte in Italia nelle guerre dell'Italia combattute in Italia dopo il secondo conflitto mondiale il risultato è stata la morte è stata la morte dei condottieri di tutti i condottieri che hanno agito per conto proprio originariamente originalmente personalmente e sono stati tutti uccisi è chiaro? certo c'è un'altra frase che mi colpisce molto che leggo qui per penetrare nel centro dell'Africa bisogna quindi conquistare tutti i suoi imperi litoranei l'Europa e più particolarmente le sue nazioni adagiate sul Mediterraneo non hanno altra missione oh i paesi mediterranei non hanno altra missione ecco ecco perché ci ha fatto guerra l'Inghilterra bisogna avere queste concezioni geopolitiche è l'Inghilterra che ci ha fatto la guerra perché che l'Italia rimaneva qui a grattarsi i coglioni nessuno diceva niente quando l'Italia ha cominciato a pensare che la propria indipendenza dovesse ricercarsi nel Mediterraneo immediatamente intervenuta l'Inghilterra esatto perché l'Italia è stata creata come canale da guarda di interesse inglese nel Mediterraneo poi quando è sfuggita di mano all'oro perché l'Italia non dimentichiamola è una creatura massonica inglese non dimentichiamocelo questo chiaramente allora l'Inghilterra cosa ha fatto ha fatto fuori il regno di Sicilie perché ha dato i fatti suoi e quindi l'ha fatto fuori grazie a che cosa a l'Italia dallo finanziato usando i Savoia no e hanno usato un sistema che è stato lo stesso sistema riportato diciamo 70 anni dopo o meglio 80 anni dopo che hanno usato nella seconda guerra mondiale per distruggere l'Italia cioè hanno fatto al regno di Napoli quello che hanno fatto poi dopo 80 anni all'Italia fascista che loro hanno demolito sappiamo come con tutte le trame con tutti i venduti eccetera eccetera e questa cosa qua non è che le dico io le dico i documenti che sono usciti grazie a Giovanni Pasanella dall'archivio britannico famoso Kew Garden di Londra in cui ci sono i nomi e cognomi di colori che comportavano contro l'Italia e c'erano anche dei presunti fascisti tra cui Dino Grandi e altri nomunque ancora non chiamavano non chiamavano i fascisti quelli erano nazionali della non erano fascisti è detta dittatura fascista in realtà esatto erano due componenti fondamentali una che era quella dei fascisti che era di sinistra totalmente di sinistra sì ed era quella dei nazionalisti e questo è il punto essenziale e c'erano alcuni alcuni che erano nazionalisti ma figuravano fascisti e quindi la scissione di questa fusione è avvenuta nel 1943 chiaro dove chi era di sinistra si è espresso e impegnato su quella linea e gli altri sono andati dietro al re certo 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 voglio continuare questa lettura perché è importante perché significato la comprensione del problema dell'Africa è qui le sue nazioni adagiate sul Mediterraneo non hanno altra missione l'Europa che non lo fu mai non può essere oggi scopo a se stessa questa frase è importantissima certo l'Europa non può essere scopo a se stessa una qualsiasi politica che sia esclusivamente europeista senza tenere conto di tutti gli addentellati è una politica che non serve a niente non ha un precedente storico no oggi in televisione hanno manifestato piacere per l'adesione della Svezia della Svezia alla Nato la pagherà la Svezia è certo la pagherà anche la Svezia la pagherà cara anche secondo me la pagherà molto cara se la terribilità di questo processo storico iniziantesi fatalmente con la guerra e con la distruzione irrita l'ammalata sensibilità di quei recenti cultori del diritto che sognano la diffusione della civiltà con i mezzi esclusivamente pacifici giudicando popoli circoscritti da migliaia di anni nell'inferiorità della propria razza siccome capaci di intenderli e di mutarvisi così da poter servire nei periodi storici che succederanno al nostro questa terribilità è antica e fatale quanto la storia stessa infatti con la scusa di redimere quelle popolazioni africane si sono creati gli imperi tra gli imperi più feroci come l'impero belga come l'impero inglese qui non dimentichiamo le pagine importantissime che Oriani ha scritto in relazione alla eroica difesa del proprio suolo da parte dei voeri di cui ovviamente non si parla mai questi hanno lottato fino alla fine malgrado le persecuzioni che hanno subito da parte degli inglesi che erano attirati su quei territori solo per rubare l'oro l'oro e i diamanti infatti come è abitudine di queste persone dove c'è l'oro e ci sono i diamanti lì arriva l'inglese o meglio arriva un certo tipo di inglese l'Europa che per tre secoli si era lasciata sull'America creandola ora preme sull'Africa e punta sull'Asia per aprirle la razza bianca dispute il terreno alle razze inferiori chiamandole alla propria civiltà quelle che non rispondono sono condannate quelle che resistono saranno distrutte più di così che cosa deve dire uno della auto come dire comprensione inglese chiamiamola autocomprensione alla faccia altra considerazione l'Italia troppo facilmente schiacciata nei moti del 21 e del 31 battuta per tutte le sue città le sue campagne nel 48 cassa vincitrice nel 59 questo è importantissimo all'alto della Francia che la rispondevava nel cospetto della storia sconfitta miserevolmente nel 66 sulla fatale pianura di costosa e nelle acque di lissa l'Italia alla quale Garibaldi non aveva puntuto infondere il cuore ma Mazzini il genio Cavour il senno che entrava nel 70 a Roma di sorpresa mentre l'Europa preoccupanta dell'immane duello franco-germanico non le badava e l'impero napoleonico protettore del papato ruinava nella ignominia di Sedan da 16 anni stava China davanti a tutte le potenze quasi vergognosa di aver compiuto la propria unità stracciando un trattato che la coscienza di nazione avrebbe dovuto vietarle di firmare l'Italia trascinata a Vienna come da migella dell'impero austriaco accettata a Berlino come una riserva dell'impero germanico irrisa dal papato questo è un punto fondamentale ma rappresentata dal Parlamento peggio governata dai ministeri aveva duopo di un eroismo nazionale che risollevandole la fronte le riassicurasse la coscienza bello vissuta prima di risorgere nazione nella servitù di ogni forte e nella gloria di un passato al quale nessun presente o futuro di popolo potrà mai somigliare cresciuta accattando aiuti e dispregi e tremando nella propria rivoluzione perfino sotto la corazza degli ultimi re di Savoia ai quali si sottometteva per incorrigibile abitudine di servitù è importantissimo questa frase distese ipocritamente da Torino a Firenze per salire trepidamente a Roma sospinta dalla legge storica dell'Europa all'impresa africana senza comprendere il carattere né volerne la grandezza avreva duopo che un drappello dei suoi soldati trasformandosi in eroi le provasse che nelle vene del suo popolo perveva ancora il sangue latino questa è bellissima questo è un nell'ambito di un articolo per i caduti di Adua e per i caduti di Dogali capito questo è bellissima perché lì c'è stato il riscatto è certo capito aveva bisogno di questo mentre che cosa è successo è successo il finimondo invece di onorare questi caduti di silenzio con la coda tra le gambe a chiedere la elemosina alla elemosina all'Inghilterra e alla Germania e qui c'è un'altra frase che voglio leggere per dire che non c'è solo un commento per quelli che ci tocca sentire a televisione e leggere sui giornali c'è anche chi fa i commenti di questo tipo cioè chi ha perfettamente conoscenza e coscienza della realtà qui c'è lotta politica in Italia è la storia d'Italia solo che non è la storia d'Italia scritta dagli storici per le scuole ginasiali è la storia di uno che capisce che la storia d'Italia si riassume nella lotta politica se tu fai la storia d'Italia e non ci metti dentro lo studio della lotta politica non capisci niente perché l'Italia è un paese che ha sempre lottato perché? perché c'è un tumore qui in questo paese è un tumore che è stato all'origine di tutte le malattie possibili immaginabili il tumore si chiama Vaticano è inutile negarlo è toccato un tasto dolente caro mio molto dolente purtroppo è inutile negarlo è un problema che si è manifestato in Italia già dal 29 da quando ma quando era il 29 adesso leggiamo la storia vera la storia vera no prima anche prima però dico l'Italia unitaria il Vaticano ha preso forma nel 29 quando fu fatto il e lì è stato un accordo è già lì è già lì appena firmato il concordato fresco d'inchiostro il Vaticano cominciò a rompere i maroni non solo Mussolini stesso viste all'autista che lo riportava a casa questi ci hanno fregato per l'adesima volta esatto bravo lo riporta in modo impeccabile documentato con il bravissimo Ben Nilai un grande vaticanista che scriveva per il giornale dei Montanelli mi ricordo molto bene questa frase ma non solo il signor De Vecchi quasi dal giorno dopo che fu un antipattico lui poi fu nominato ambasciatore presso il Vaticano fu il primo ambasciatore d'Italia Vaticano fu Cesare Maria De Vecchi dal Cetmoni quadruvilo ecco che poi doveva fare il partigiano dopo il 43 guarda un po' che facciamo stare allora lui racconta che a un certo punto dopo un poche tempo doveva fare la spola fra Palazzo Venezia e Vaticano per acquiettare diciamo così gli umori tra Papa Pio XI e Mussolini perché Mussolini sotto il punto sta per mandare tutta l'aria perché il Papa voleva assolutamente impossessarsi dell'educazione dei giovani e Mussolini se no i giovani le dico io cioè lo Stato chiaramente la legione sì ma principalmente lo Stato e insomma e alla fine De Vecchi dovete fare veramente sudare le proverbiali le camicie per ricomporre il tutto poi le cose andano avanti ma andano avanti come sempre col coltello puntato dietro la schiena e questo è il punto allora leggo questo capitolo capitolo queste poche frasi per richiamare l'attenzione a un punto essenziale io ci ho scritto anche un pensierino ieri su internet se noi non vi risaliamo alla guerra gotica scritta da Procopio non riusciamo mai a capire la storia d'Italia perché la guerra gotica combattuta sul suolo nazionale italiano per procura dell'imperatore giustiniano fatta da validissimi generali come Narsetia ad esempio questa guerra oltre a aver ridotto la popolazione italiana a pochissime unità è all'origine della tragedia italiana ma anche oggi perché se in Italia ci fossero rimasti parlo da Ravennate io mi sento erede di Teodorico ah ecco di quel grande di quel grande re perché è stato un grande re da Priapo a Federico quindi basta così allora Teodorico quando andavo perché adesso non c'è più nessuna ragione di ritornare ad Ravenna quando andavo ad Ravenna andavo a omaggiare Teodorico alla sua tomba che poi magari non c'è mai stato comunque sia è la tomba di Teodorico è stata costruita per diventare la tomba di Teodorico allora la guerra che l'impero d'oriente ha condotto contro i goti e che ha portato alla morte degli ultimi due re da goti Totila e Teia è una guerra che ha molte similitudini con la guerra fatta sul territorio italiano dalle truppe variopinte angloamericane partendo dal basso e avanzando uccidendo massacrando distruggendo bombardando è la stessa cosa e qui ci sono delle considerazioni importantissime se i goti avevano commesso l'errore di accettare il principio imperiale i Longobardi lo avevano raddoppiato accettando quello cattolico i loro due regni sorti allo scopo di spezzare l'unità romana e bizantina perché la originalità latenti della nuova vita politica e sociale potessero prodursi mutavano però l'Italia di Odoacre così come il nuovo patto fra Carlo Magno e il Pontefice trasportava la base del diritto da Oriente a Occidente l'Italia di oggi è il frutto dell'accordo tra Carlo Magno e il Pontefice il quale Pontefice fu lui a chiamare Carlo Magno in Italia perché si sentiva minacciato nei suoi possedimenti e dopo l'arrivo di Carlo Magno è nato quello che poi hanno tentato di contrabbandare come donazione di Costantino questi 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 commercianti da quattro soldi e ci sono stati gli italiani che ci hanno creduto fino al 1400 lo stesso Dante nella sua grandiosa opera ebbe a dire ai Costantin quanto ci costò questo suo dono Dante che ci credeva anche lui alle balle che raccontavano questi ma Dante che è il padre reale dell'Italia moderna aveva capito tutto aveva capito tutto perché era un uomo che era realmente un iniziato se non fosse stato un iniziato non avrebbe potuto scrivere quella opera probabilmente sì tre secoli di rivoluzione avevano finalmente maturato il proprio frutto l'antico mondo romano era cancellato le invasioni arrestate il dominio bizantino soppresso la grande donazione franca alla chiesa emancipava tutta l'Italia non lo govarda con la dominazione del pontefice che non potrebbe mai regnarvi da principe unitario oh il federalismo liberale di cui era tribuno e diventava doge gli impediva il regno con le stesse micidiali contraddizioni che ai goti o ai longobardi senza preoccuparsi nemmeno se egli per fatalità del proprio principio o del proprio istituto religioso dovesse tendere a una unità ben più grande e compatta che non quella del re di Pavia quindi nella nuova Italia la lotta politica muta ancora terreno e metodo la nazione divisa in franca e pontificia giacché i suoi punti estremi non compresi nel patto di Carlo Magno non sono ancora politicamente italiani prosegue la propria rivoluzione voltandosi contro i franchi per eliminarli lentamente dopo averne sfruttata tutta l'efficacia e contro il pontefice ogni qualvolta pretenda nella politica italiana all'assorbente unità unità della propria politica religiosa e cosmopolita qui abbiamo una concezione molto chiara della inattendibilità del pontefice come strumento per la dignità italiana non lo potrà mai essere perché c'è questa intrinseca contraddizione la Chiesa non potrà mai fare una politica a favore degli italiani e men che meno questo regime che è composto esclusivamente da cattolici in libera uscita non solo ma abbiamo delle persone che sono state imposte perché non erano quando sono state imposte a capo del governo quando c'era la falsa pandemia queste persone provengono da ambienti che sono ultracattolici esponenti della geopolitica cattolica ricordiamocelo sempre della Chiesa Giuseppe Conte che blattera di qua di là e su e giù è una filiazione della politica estera della geopolitica dell'istituto vaticano eh già chiaro e leggiamo qualche altra cosa ottimo Giorgio eh insomma storiani veramente che ha visto tutto bene l'ha visto anche lontano eh ha visto grandissimo quest'uomo questo e anzi è da leggere le sue opere io ho letto qualcosa ma è veramente ho letto un po' di formazione di questo autore che è un autore a mio avviso da studiare ma proprio a a tutto a tutto a tutta a birra insomma a 360 gradi merita questo mese studiato veramente un vero italiano e c'è un'altra cosa importantissima qui il partito e qui ovviamente facciamo un salto di secoli e arriviamo al dopo Napoleone il partito dell'indipendenza italiana dopo aver perduto in prina il suo ministro migliore perdendo in mirà l'unico generale non ebbe più rappresentanti il secondo periodo della rivoluzione italiana era conchiuso la restaurazione assettava l'Italia come prima della rivoluzione ma lo spirito nazionale era profondamente mutato l'Italia dei cicisbei addormentata nella riforma l'Italia dei cicisbei come oggi basta che guardi la televisione vedi le pubblicazioni i giornali e un giro di prostitute e di cicisbei l'Italia dei cicisbei addormentata nelle riforme stupidamente devota ai propri re adorante il papa come un semidio spersata da parini schiaffeggiata da alfieri non esisteva più vent'anni di vita e di guerre europee l'avevano trasformata tutti gli antichi principi erano stati cacciati nuovi governi altre classi un popolo più bogeno l'avevano riempita i soldati italiani si erano battuti in Spagna in Germania in Russia dappertutto ed è vero ho fatto vedere che il libro costituzioni date rimutate tolte riconcesse avevano parlato di un'Italia intera ecco dove nasce il concetto di Italia deve essere qui nelle battaglie combattute degli italiani per Napoleone infatti il papa aveva abbiurato abdicando il papato tutti i principi erano fuggiti confessando il proprio diritto gli stessi ultimi conquistatori avevano pubblicato promesse di libertà di indipendenza e di unità ma se Napoleone non aveva potuto osservare sulla fortissima testa la corona di ferro non è un caso non è un caso che Napoleone in una in un regime che era pieno di simboli aveva cinto la corona di ferro a Pavia e Mirà era morto nello sforzo di ghermirla se Genova e Venezia non esistevano più e più a settimo tornava Roma Vittorio Emanuele a Torino Ferdinando III in Toscana Ferdinando IV a Napola i Gesuiti dappertutto nessuno di questi tornanti poteva vantarsi di riconoscere la società che li accoglieva con considerazioni validissime così avvengono per salti le evoluzioni delle società una buonfera di vent'anni squassando tutti gli spiriti vi aveva deposto germi di nuove idee l'Arcadia del secolo anteriore era già lontana quanto la scolastica di San Tommaso un altro uomo era nato in Italia col cittadino la patria non era più in nessuno di quei piccoli stati si sentiva si discorreva involontariamente d'Italia l'opposizione politica si disegnava da un canti re dall'altro i popoli quelli dietro al papa questi intorno alla libertà i governi dovevano mutarsi in congegni di polizia e in macchine di comprensione contro il pensiero nazionale per aumentare la sua forza il carattere uscirebbe temprato da questo attrito tutte le scienze e le arti si preparavano già a cospirarne nella politica e con la politica mentre la storia d'Italia nel medioevo e nel rinascimento aveva avuto a principio la federazione contro l'unità e dal rinascimento la rivoluzione francese invertendosi era passata era passata all'unità e dal rinascimento alla rivoluzione francese invertendosi era passata all'unità con la formazione dei tre grossi regni dei Savoia della Chiesa e dei Borboni questi sono la terra da cui nasce poi il processo vero unitario ora l'unità diventando coscienza per la simultanea soppressione di tutti i regni sperata dalla rivoluzione e dall'impero francese esigeva una nuova forma unitaria repubblicana o monarchica la storia moderna d'Italia risulterebbe quindi dal contrasto dei residui stranieri federali regi e cattolici alla sua unità quindi l'unità d'Italia nasce dal contrasto contro le potenze straniere che si erano divise in Italia fino ad allora e contro il pappato e non dimentichiamo mai che le guerre del risorgimento sono iniziate per impulso di quel pionono che pensate di poter attraverso una federazione di eserciti conquistare l'intero dominio dell'Italia tutta non dimentichiamocelo mai quando poi pionono si accorse che l'andazzo andava in altra direzione si ritirò e fu la fine del 1848 e la nascita della grande repubblica romana del 1849 è stata ricordata di recente anche della televisione italiana con una bella biografia di Goffredo Maneli tra l'altro la repubblica romana fu un evento eccezionale e innovativo non dimentichiamocelo esattamente se Parini e Alfieri preludendo alla rivoluzione francese non ne compresero poi alcuni dei caratteri Monti e Foscolo rappresentarono meravigliosamente la generazione da essa sospesa sorpresa appena l'Italia prese fuoco alla rivoluzione la sua senile letteratura ha muto lì bello questo eh bello bellissima quella letteratura senile la carneficina di Parigi e il rombo delle guerre francesi caccianti austriaci principi e papi per improvvisare repubbliche servili ma rivoluzionarie sconvolsero il classicismo compassato dei retori predisponendoli all'opposizione ma l'abitudine della servitù e l'apparire trionfale di Napoleone imperatore li riconciliò alla cortigianeria ecco dove questa grandissima capacità di esprimere in pochissime parole perché questi retori conservatori a un certo punto con l'apparire di Napoleone videro l'uomo che loro avrebbero dovuto e potuto di affrante al quale avrebbero voluto e potuto inchinarsi ecco perché buona parte del conservatorismo italiano e centroeuropeo si inchinò a Napoleone vedevano in Napoleone il nuovo Cesare e sapevano che non potevano controbattere quindi si asservivano si adattavano ad inventare di nuovo servi quello che erano prima e che saranno anche dopo perché oggi il paese è un paese di servi che nascondono a se stessi la loro servitù allora tutti capi politici ed amministrativi ministri e deputati scienziati e filosofi poeti e prosatori adularono l'Oraziano Fantoni che aveva protestato per l'annessione del Piemonte alla Francia non osò continuare Monti di già glorioso per avere imprecato nella basvilliana alla convenzione regicida maledisse poco dopo al sangue del vile capeto succhiato alle vene dei figli di Francia e come si fa presto a girare soprattutto l'ultraclericale Monti Tesarotti il bardo sianico sentì scoppiarsi alle labbra la tromba della gloria soffiandovi dentro il nome di Napoleone solamente Alfieri sopravvissuto al proprio periodo e ributtato dal nuovo proruppe ad un odio misantropo che gli fece approvare persino gli inutili assassini sui francesi e scrivere col sangue avvelenato del proprio cuore il misogallo poscolo classico e repubblicano con l'anima onesta di Parini e il carattere sdegnoso dell'Alfieri si cacciò all'opposizione liberale sognando un'Italia repubblicana bello che meravigliosa sintesi bellissimo beh guarda questo del corniciare dopo mettiamo anzi ci mettiamo il soltito di questa opera di Oriani ma anche la pagina in cui si trova questa sintesi eccezionale dell'Italia fatta veramente da un uomo che sapeva tutto e guardava anche oltre il suo tempo perché poi tutte quelle cose le abbiamo ancora adesso quindi voglio dire sì esatto una descrizione dell'Italia di oggi e concludiamo con un'altra frase che è qui non si vedeva allora attenzione questo riguarda il trattato di Vienna non si vedeva allora che i trattati di Vienna erano un altro effetto della rivoluzione francese bellissima sintesi non c'è bisogno di nessuna dimostrazione come già quello di Westfalia era stato una conseguenza della rivoluzione protestante chiuso l'argomento è chiuso ecco la lungimiranza il trattato di Westfalia con tutte le sue conseguenze importantissime e validissime è stato il risultato della rivoluzione protestante e delle guerre che sono nate dalla rivoluzione protestante il trattato di Vienna dal 1814 in poi è stato il risultato della rivoluzione francese l'accordo di Stato una conseguenza della rivoluzione protestante l'accordo di tutte le monarchie per resistere al principio rivoluzionario finiva fatalmente a riconoscerlo più vitale che mai un profondo dualismo divideva quindi l'Europa lo spirito rivoluzionario rimasto nei codici nelle carte nelle memorie nelle fantasie e nelle coscienze attenzione a queste frasi che sono importantissime il ricordo il ricordo rimasto nei codici nelle carte nelle memorie nelle fantasie e nelle coscienze il ricordo e qui sono stati scritti dei codici sono state scritte delle carte sono state scritte delle memorie si è fantasticato e si è ovviamente pensato e creduto e nelle coscienze ma anche nei sacrifici della guerra il ricordo c'è per quello questi coglioni che credono di governare non sanno cosa pensano realmente gli italiani ma infatti non lo sanno ma non sarà nemmeno cosa è l'Italia cosa vuoi che pensi sono gli italiani ma non sa nemmeno quello e magari attenzione cari signori se non quello spirito italiano in un bel momento non si risveglia attenzione tutti quanti speriamo che Dio ci aiuti Giorgio a cominciare da quel Francesco che è stato definito da molti il vero capo del centro-sinistra Francesco chi? ce n'è uno solo questo rompi coglioni che abbiamo sulla schiena ah ecco ecco ho capito ascolta vorrei chiudere con un tuo pensiero o meglio con un tuo commento su questo pensiero che ebbe Hegel nel riguardo di Napoleone e disse così attenzione cosa disse Hegel su Napoleone qui ci riporta il bravo Gasper Emanuele che ringrazio mani da ciancatore rivolta che adesso lo vedo qua che è tenuto bene poi Giovanni Trinchero ormai è un figlio solo di intervenire qua un veterano dice così e ne ha scritti tanti disse Hegel disse è in effetti una sensazione meravigliosa vedere un tale individuo cioè Napoleone che qui concentrato in un punto seduto su un cavallo si irradia sul mondo e lo domina e aggiungo altro pensiero non sospetto Byron il poeta inglese Byron che tanto amo l'Italia tu lo sai no parlando di Wellington quello che sconfisso Napoleone con una grande coalizione grazie ai prussiani il generale tedesco mi chiamava Prussiano mi chiamava se mi fugge il nome e grazie anche al tradimento di un ufficiale di Napoleone parlando di Wellington Byron disse è come ammirare un masso solo perché un grand'uomo ci è inciampato esattamente ma Byron è stato un grande poeta caspita caspita no detto da un greco e non a caso è venuto ad avverarsi alla cultura classica italiana infatti però non sarebbe venuto qua no no certo certo non a caso come anche in grandi altri non si sarebbe installato a Ravenna oltredutto ma non solo anche un altro grande uomo di cultura distinto anglosassone come Ezra Pound più o meno per stessa ragione preferì starsi in Italia no? lo voglio Venezia e quindi e potremmo continuare bene Giorgio allora finiamo qui chiudo chiudo questa citazione perché è importante l'accordo di tutte le monarchie per resistere al principio rivoluzionario finiva fatalmente a riconoscerlo più vitale che mai un profondo dualismo divideva quindi l'Europa lo spirito rivoluzionario rimasto nei codici nelle carte nelle memorie nelle fantasie e nelle coscienze proseguiva la propria opera latente disonorando negli animi più eletti quel congresso di sovrani che per assicurarsi sul trono mentivano alle promesse di libertà prodigate ai popoli nel mattino delle insurrezioni federali per le loro promesse come quelle fatte dagli anglo-americani agli italiani con questa falsa libertà che in realtà è un dominio molto stretto che appare ogni volta che servirebbe un minimo di concetto di libertà allora subito si mettono in moto dei meccanismi come quello appunto che è emerso adesso che è un giro di spionaggio che non finisce mai e che ovviamente è un giro di ricatti di ricattatori che sono coinvolti magistrati e non poteva essere diversamente ed è emerso speriamo che vada avanti fino allo scoppio finale certo allora bene Giorgio vediamo qui tra l'altro ringrazio Gasper Giovanni per avermi ricordato che il vero vincitore di Waterloo fu il marasciallo Blücher l'accento frussiano che sono Wellington ti saluto e ti saluto anche il congresso di Viena tu ti immagini Napoleone che vinceva a vinceva Waterloo e poi andava a Viena e si presentava ai tavoli dei conferenziere che so che si avrebbe detto voi cosa ci fate qua ma quella lotta ma quella lotta che gli inglesi facevano contro Napoleone è la stessa lotta che oggi gli inglesi e gli americani fanno contro Putin è la stessa lotta esatto in effetti Gasper ci ricorda il vero traditore di Napoleone che fu il marasciallo Grouchet guarda anche questo non a caso non a caso insomma Grouchet Badoglio due nomi una garanzia di tradimento assicurata tutto qua e non a caso bene grazie a voi tutti grazie a Giovanni Badoglio che fa rima con Berdoglio grazie a Antonio Rivolta e a Sim insomma tutti voi vi ringrazio di aver partecipato attivamente a questa puntata con dei commenti sono beh finalmente così vi voglio ma molto di più molto di più voglio commenti più più partecipativi da parte vostra non di tre quattro di tutti voi bene vi ringrazio e alla prossima puntata a presto buona serata a tutti